La società per azioni Livar con lunga esperienza e grandi conoscenze produce ed elabora calchi di getti di acciaio grigio nodulare. I prodotti della Livar vengono utilizzati in Slovenia e all'estero per i macchinari agricoli, nell'industria automobilistica, nella costruzione di macchinari, nell'industria di elettrodomestici e per le armature. Producono il programma canale di proprio marchio. La Livar ha più di 50 anni di solida tradizione. La società ha due centri di produzione ad Ivancinagorizza e Cernomel, due fonderie moderne ad elaborazione meccanica. Ivancinagorizza è situata accanto all'autostrada a metà strada tra Lubiana e Nuovo Mesto. I numerosi reperti archeologici e la ricca eredità culturale ci parlano della plurisecolare tradizione del luogo. Cernomel, invece, è la più grande città della Bella Craina, una città antica con una ricca tradizione che si trova alla confluenza di due fiumi, il Lachinia ed il Doblicita. Nel 2005 la Livar ha esteso la sua produzione al territorio della Repubblica di Serbia e della Repubblica Serbska in Bosnia e Derzegovina. Ha acquistato le fonderie a Topola e a Bagnaluca. Nel 2007 la Livar ha avviato l'attuale reparto di elaborazione meccanica a Topola. Il gruppo Topola-Livar è una fonderia con 49 anni di tradizione. La più piccola delle aziende del gruppo Topola-Livar, Mecanska Obdelava, continua l'anticipata strategia della Livar di offrire al cliente calchi di getti di qualità. Tutte e due le aziende sono ubicate a Topola, nel cuore della regione Shumadia, a circa 80 chilometri a sud di Belgrado. La fonderia di acciaio Yelchingrat-Livar, a Bagnaluca, ha alle spalle 70 anni di tradizione. Bagnaluca è il centro economico e istruttivo della Repubblica Serbska. Tutte e quattro acciaierie con il reparto di elaborazione meccanica sono unite al gruppo Livar. 1500 dipendenti producono 60.000 tonnellate di calchi all'anno. La produzione è caratterizzata da alta automatizzazione, flessibilità e tempi brevi di produzione di calchi. A richiesta del cliente elaborano anche meccanicamente i calchi. La Livar cura molto la propria crescita in tutti i campi. Attraverso nuovi approcci al mercato, all'introduzione delle nuove tecnologie, allo sviluppo e alla istruzione instaura delle alleanze con i suoi clienti ed i suoi fornitori. Per i prossimi cinque anni il gruppo pianifica un'ulteriore crescita delle vendite. Con l'acquisto della fonderia di Topola e Bagnaluca e la realizzazione del reparto di elaborazione meccanica a Topola, alla Livar hanno realizzato parte della loro visione sull'espansione strategica. In questo modo è garantita la crescita della società e la realizzazione degli obiettivi economici. Tra i punti forti della Livar spiccano la padronanza del processo e della qualità totale. La società ha acquistato i seguenti certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949. Per i risultati ottenuti in campo di utilizzo efficace dell'energia, la Livar è stata insignita del riconoscimento azienda efficace nel campo energetico nell'anno 2003. Nel 2005 ha conseguito il riconoscimento azienda cortese con le donne manager e nel 2007 invece ha ricevuto il premio per l'efficace progetto energetico. La società produce diversi calchi il cui peso va dai 500 grammi a 5.000 chilogrammi. L'idea presentata nel progetto deve essere trasformata in calco. In questo procedimento è importante ogni dettaglio. I procedimenti sono complicati e richiedono un'eccezionale precisione. La massa fusa scorre come liquido vitale lentamente negli stampi e si trasforma attraverso diversi stati. Dalle originali forme liquide fino ai calchi finali universalmente utilizzabili. Nell'azienda, per la realizzazione di un calco di qualità, padroneggiano il processo completo dall'entrata all'uscita, controllando continuamente nei propri laboratori e durante il processo di produzione i parametri prescritti. A richiesta del cliente, alla LIVAR, elaborano anche meccanicamente i calchi con la modernissima tecnologia CNC e li trasportano direttamente alla linea di montaggio del cliente. Il programma commerciale della LIVAR è indirizzato verso diversi rami industriali e la percentuale di calchi elaborati sale da anno in anno. L'offerta completa allarga e arricchisce il programma commerciale. La maggior parte dei propri prodotti viene venduta sul mercato dell'Unione Europea. Oltre alla Slovenia si vende molto in Italia e in Germania. I calchi della LIVAR sono indispensabili nell'industria automobilistica, nella meccanizzazione agricola, nell'industria di elettrodomestici, nella produzione di equipaggiamento per i vagoni ferroviari, nelle miniere e nell'industria petrolifera. Anche i prodotti per il cliente nostrano vengono indirettamente venduti all'estero. La LIVAR è conosciuta per il proprio programma Canali, il quale copre l'80% dei fabbisogni sloveni e si sta espandendo anche ad altri mercati. Gli esperti della LIVAR sviluppano in continuazione nuovi prodotti e tecnologie che rispettano le direttive ecologiche. Assieme ai clienti collaborano nello sviluppo dei materiali ecologicamente non dannosi. La cura dell'ambiente è uno dei principi guida della società che negli ultimi anni investe continuamente nella protezione dell'uomo e dell'ambiente. La LIVAR segue una direzione semplice. Aiuta l'ambiente limitando le fonti di inquinamento. Ad esempio, con l'utilizzo dell'ossigeno liquido hanno diminuito il consumo del carbone e con il calore che fuoriesce dal forno a cupola riscaldano il proprio ambiente di lavoro. Il risultato è che le condizioni di lavoro stanno migliorando e gradualmente sta migliorando anche la qualità dell'ambiente circostante. I rifiuti della LIVAR non lasciano ferite nella natura perché i rifiuti riciclati vengono riutilizzati. La costruzione del depuratore per la vegetazione, realizzata qualche anno fa sul deposito di sabbia della LIVAR su Chimost, è un progetto pilota assorto in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Biologia e le organizzazioni ecologiche non governative. Con il rimboscamento e rinverdimento il deposito sta riacquistando l'aspetto che aveva nel passato e, contemporaneamente, si sta riducendo l'influsso delle acque piovane al deposito. La continua istruzione e abilitazione hanno un ruolo molto importante nello sviluppo della società LIVAR. Ne è inclusa la maggior parte dei lavoratori i quali possono trasmettere le loro nuove conoscenze immediatamente nella prassi. Vengono sempre più sollecitati il lavoro di gruppo ed il miglioramento dei rapporti interpersonali. La società LIVAR punta sulla conoscenza e l'esperienza, sulla flessibilità ed innovamento e dalla efficienza e successo. La LIVAR è un'azienda europea moderna e rinomata che risponde velocemente ai desideri dei clienti e ai cambiamenti nell'ambiente che la circonda.